Ha senso creare una fondazione per gestire ciò che non esiste più? Questo è in sostanza ragionamento sul Buzzi Lab che il nuovo Consiglio d'Istituto del Buzzi ha sottoposto al preside Alessandro Marinelli nella riunione fiume di insediamento di ieri pomeriggio. Una triste sintesi della realtà che pare ancora più chiara di fronte allo slittamento della presentazione dello statuto della fondazione che Regione, Scuola e Pine dovrebbero creare per dare al laboratorio conto terzi una veste giuridica appropriata, come prevede la nuova normativa. La bozza avrebbe dovuto essere presentata ieri ma non è ancora pronta. D'altronde non c'è più fretta perché l'esperienza del Buzzi Lab può dirsi chiusa definitivamente. È caduta al tappeto con la sospensione delle attività imposta a settembre in modo troppo repentino dal nuovo dirigente Marinelli che poi ci ha ripensato poche settimane dopo basandosi sulle promesse di messa in regola delle istituzioni che ancora non si sono concretizzate. Il colpo mortale al ferito grave è arrivato dalla mancata proroga dei contratti dei tecnici che operavano dentro il laboratorio, sia quelli della cooperativa a casa da ieri che quelli della scuola che scadranno a breve. Di conseguenza non sono state prese altre commesse e nel frattempo si è dimesso anche il responsabile del laboratorio, il professor Giuseppe Bartolini, luminare della chimica tessile e mente di importanti progetti pubblici che hanno reso il Buzzi Lab un'eccellenza internazionale. La sua uscita di scena non solo pregiudica qualsiasi tentativo di rinascita del laboratorio ma azzera anche tutto il sistema di certificazione di qualità di cui il laboratorio si era dotato nel corso degli anni. Il Buzzi Lab è una scatola vuota senza più anima. Forse la città e il distretto non hanno ancora capito la gravità della perdita che stanno subendo ma chi lavora e frequenta la scuola ne è consapevole. Da qui la richiesta del Consiglio d'Istituto al Preside di riflettere seriamente sull'utilità di questa fondazione e sull'opportunità di prendere atto della realtà limitandosi a creare un semplice laboratorio didattico per gli studenti. Grazie.